Buonasera Pietro, io ho subito di esprimerci la tua emozione, insomma in questa serata, in tua e donna. L'emozione unica, come ho detto anche ad altre interviste, è una cosa che gli auguro sempre ad ogni tifoso barese, quindi è un'emozione che non si può spiegare, sono senza parole. Sei venuto su quel gol, perché non è un po' per un'azione di tessina, ma sei venuto dall'altecana, non era neanche facile farlo, forse stai pubblicando un po' la testa, quindi è molto importante come stai fisicamente, a livello di percentuale, per il possibile che era la testa del progetto del progetto del progetto? Sul gol è stato un istinto, ho visto la palla tassare lì e mi sono buttato. E' un'etica particolare per questo gol? Questo gol è di tutti, la mia famiglia, di tutti i tifosi del Bari, di tutti questo gol. Questo è sicuramente il destino, ho riservato questo. Come ti ho detto l'altra volta, quando facciamo quell'intervista, si è avverata questa cosa, quindi sono più che soddisfatto. Senti, lì con la pantina si alzava e tutti i tuoi compagni sono venuti ad approcciarti. Senti particolarmente avanti dalla squadra? No, ma da quando sono arrivato, messo piede qui, me ne ha porto tutti alla grande, quindi questo gol è anche in merito di loro che mi hanno aiutato a realizzarlo. Il mister è arrivato da dieci giorni, come sapete. Purtroppo eravamo in pochi oggi, mancavano dei giocatori importanti per questa squadra, però l'unica cosa importante stasera era portare i tre punti a casa. Il prossimo giorno, il primo giorno non ti avessi avuto il Bari? Sono arrivato il primo giorno e non mi sono fatto male. Poi sono stato quindici giorni fermo e sono rientrato due giorni fa, dove ho lavorato a parte con il partito UC e ora sono pronto. Grazie, grazie, allora attacchiamo perché davvero abbiamo sforato di parecchio e abbiamo sentito più o meno tutte le dichiarazioni di Pietro Cialci che ha lasciato.